ciao canam run allora per quanto riguarda la cassa integrazione e bisogna aspettare purtroppo qua i tempi sono abbastanza lunghi come stiamo notando tutti purtroppo però deve uscire una domandina per i nuclei familiari con ise basso e mi pare che tu ce l'abbia basso con minori di 14 anni e mi sembra che tu hai bambini piccoli quindi per questo però ci dobbiamo aggiornare perché è una domandina che dovrebbe uscire nei prossimi giorni quindi ricontattami la settimana prossima e vediamo se ho novità salam alaikum 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 salam alaikum